Abbiamo fatto insieme, non? Abbiamo sicuramente insieme insieme, non? Non è così bello? Ciao amici, oggi per voi abbiamo un prodotto eccezionale a presentarvi, venite con me! Questo è il bandione, il bandione multiuso. Ragazzi, sembra incredibile, ma la bandiera può servire a mille cose, veramente! Ma vediamo come possiamo utilizzarla nell'arco di tutta la giornata. Buongiorno, ciao amici! Buongiorno! Allora ragazzi, com'è questa bandione? Eccezionale! Bandione sulla tavola di tutti i frangalotti! Vai! Bandione! Quando c'è più bisogno, lei c'è! Bandione! Bandione! Si prende cura di te fin dalle prime ore del mattino, sia l'estate con il lato grigio, sia l'interno con quello in lato blu. Ragazzi che limone, ma ci vorrebbe un po' di intimità, arriva Bandione! Raffreddore, allergie di stagione, bandione! Raffreddore! Anche salciccia! Gli sbagliò! Ragazzi abbiamo visto le molteplici possibilità di utilizzo di Bandione. Dove potete trovarla? Su ebay, al numero viata, in sovraimpressione. Bandione! La bandiera multiuso!